Parliamo del nostro respiro e do il bentornato al dottor Tito Marianetti, chirurgo maxillo facciale, specialista in chirurgia nasale. Perché oggi noi parliamo del nostro respiro? E beh, voi in questo momento che ci state seguendo, provate, allora fermatevi un attimo, provate a respirare. Fate un grande respiro, come vi sembra essere il vostro respiro? Avete avuto qualche difficoltà? Niente paura, qua c'è il nostro dottor Marianetti e ti ci darà tanti consigli utili. Allora, la prima domanda, quali sono i benefici? Perché noi respiriamo tanti litri d'acqua al giorno, vero? Assolutamente sì. Di aria, non di acqua. Direi che la respirazione è fondamentale, assolutamente fondamentale, per il nostro benessere psicofisico. Se pensiamo, per esempio, a molte tecniche di yoga che si fondano proprio sulla corretta percezione del respiro, io direi che la respirazione fa bene, respirare bene fa bene al corpo e anche alla mente. Eh, questo, ci sono tanti benefici. Invece, respirare, molti di noi respirano con la bocca. Allora, quali sono le conseguenze di una respirazione fatta male? Sì, respirare male significa non avere innanzitutto la percezione del respiro, quindi non si ha quel beneficio, quel benessere psicologico di cui parlavamo. E poi non ossigenare bene il sangue non fa bene, perché comunque si sta male, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista della sensazione di sentirsi bene. Quindi ci sono diverse cause per cui si respira male. Quindi fondamentalmente queste cause non dipendono solo dal naso, ma fondamentalmente dal naso. Quindi ci può essere anche, per esempio, la mandibola troppo indietro, le vie aeree posteriori chiuse, da denoidi, da tonsille ipertrofiche. Però sicuramente il fatto di avere un naso chiuso è una delle cause principali. E allora, ci sono varie cause, varie anche patologie che portano ad una cattiva respirazione. Quali sono queste cause? Per quanto riguarda le cause, soprattutto riguardanti la piramide nasale, fondamentalmente ci sono la deviazione del setto nasale, che sicuramente è quella più frequente in assoluto. C'è l'ipertrofia dei turbinati, ma ci sono anche delle forme un po' strane, un po' particolari del naso, che non ti permettono di respirare bene. Per esempio, se un naso è molto storto frontalmente, è difficile che quel naso possa respirare bene, nasconde magari anche un setto deviato. Ecco, ma non solo, la forma, abbiamo capito, lo vediamo subito se un naso ha difficoltà perché è proprio storto. Ci sono altri sintomi che ci devono far capire che è un setto nasale deviato? Fondamentalmente uno è difficile se ne renda conto, soprattutto se dalla nascita non respirava bene. Quindi se magari si può pensare di respirare bene, pur avendo un setto nasale molto deviato. Quindi lo svegliarsi magari un po' sonnati, il fatto di stare un po' spenti durante la giornata, anche questo può essere un sintomo del fatto che non si è respirato bene, magari durante la notte. Spesso, insomma, a parte quei casi che dicevamo, in cui il setto nasale si associa a una piramide nasale molto storta, spesso uno non sa che all'interno del suo naso ci sono dei problemi. A questo punto che cosa bisogna fare? Allora, dopo averne parlato, immagino, bisogna andare dallo specialista? Beh, sì, insomma, lo specialista più opportuno che guarda all'interno del naso è o l'otorino o il chirurgo maxilofacciale. E quindi si fa una visita innanzitutto, si guarda all'interno del naso per vedere appunto quali sono i problemi, i problemi più frequenti. Poi si può anche andare avanti con le analisi, con le indagini, quindi fondamentalmente fare una TAC, fare una fibroscopia nasale. e quindi gradualmente ci sono gli esami diagnostici che si possono fare. Esattamente, ci sono gli esami diagnostici, però la prima cosa è una visita, perché poi dalla visita basta guardare all'interno nasale con uno speculum nasale e già si comprende, si riesce a vedere tante cose all'interno del naso. E a questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna fare e bisogna prima capire qual è il problema. Una volta capito il problema, se il problema è un problema strutturale del naso, come può essere una deviazione del setto nasale, non c'è via alternativa all'intervento. E l'intervento può essere un intervento di setto plastica, che riguarda esclusivamente l'intervento sul setto nasale, o di setto rinoplastica, se uno per esempio deve correggere anche un naso nasale, un naso storto. E in questo caso, diciamo, l'estetica e la funzione diventano due facce della stessa medaglia. Allora, qui la domanda, 100 milioni di dollari è un intervento, invece quando si parla sempre di interventi, insomma le persone hanno difficoltà anche ad approcciarsi all'intervento. E allora, è molto invasivo questo tipo di intervento? Non così tanto, non come si pensa. Per esempio, quando si deve intervenire sull'osso, spesso i pazienti pensano che sia particolarmente doloroso il post-operatorio. Non è così. Nessuno sente dolore, prende neanche una tachiperina dopo l'intervento. Quindi diventa un intervento, oggi con le tecniche ovviamente più recenti che ci sono, molto meno invasivo rispetto al passato. Sarà qualche lividino, non ci sarà la sensazione di non respirare bene per i primi giorni, ma tutto qui, non ci sono grandissimi problemi dopo l'intervento. Allora, parlando con tanti amici che hanno fatto questo intervento, tanti anni fa, la paura dei tamponi, questo è l'incubo di chi ha fatto un intervento del genere. Allora, i tamponi danno davvero così fastidio? Si usano ancora i tamponi? Danno estremamente fastidio ai tamponi, però si possono non usare. Ci sono tante tecniche recenti che permettono oggi di non usare più i tamponi nel naso. E questo è un grandissimo vantaggio, perché poi i tamponi erano associati al dolore. Quindi quando si è sentito dire da amici, da parenti che hanno fatto tanto tempo fa, dolore forte, dolore quando ho tolto i tamponi, tanti aneddoti, anche squallidi su questo argomento. In realtà è solo il fatto che venivano messi i tamponi. Oggi si fa una sorta di cucitura con un punto riassorbibile del setto nasale che ti permette in realtà di non mettere i tamponi. Quindi tutti questi fastidi, sia legati al momento di dover togliere i tamponi, sia al momento anche di doverli tenere, sono pressoché spariti. Noi dovremmo avere una foto del prima e del dopo. Dopo un intervento, io ho visto la foto del prima, insomma era una signora che aveva un problema abbastanza... Ecco, vediamo. Qui non c'è solo un problema di setto nasale, c'è tutta la piramide nasale deviata, c'è un'astenosi valvolare a sinistra, quindi la paziente risorge da un punto di vista respiratorio, ma anche forse da un punto di vista estetico. Perché avere un naso dritto direi che è importante anche quando ci si guarda allo specchio. Anche perché di profilo uno si guarda in foto, ma allo specchio ci si guarda tutti i giorni. Per cui ecco, vediamo anche... E qui invece vediamo quale problema funzionale ci può essere e quindi respirare con la bocca relativamente ai problemi che diciamo prima, insomma non è una qualità di vita bella quando diciamo si hanno queste condizioni. Dobbiamo ossigenare tutto il nostro corpo. Assolutamente sì, l'ossigenazione di noi stessi ci fa sentire meglio. Allora, rispondiamo a Giada, ci scrive da Potenza e le chiede, dottore, mio marito russa molto, potrebbe essere colpa del setto nasale deviato? Grazie. Cosa dovrebbe fare il marito di Giada a questo punto? Potrebbe essere colpa del setto nasale, ma non solo, perché poi bisogna indagare, il russamento è legato anche al naso, ma può essere un problema del baselingua, delle tonsille, di un lumere ristretto, quindi non solo il naso, però insomma il naso ha una buona parte, quindi deve fare una visita e soprattutto deve indagare sul fatto che sia solo russamento, in quel caso il problema sarebbe di Giada. Esatto. Se invece ha anche apnee associate al russamento, allora il problema diventa del marito, perché le apnee sono associate a un maggiore rischio di eventi cardiovascolari e allora lì bisogna indagare maggiormente questo problema magari con una polisonnografia, che è un'indagine che ti indaga come respirito durante il sonno, come ossigeno il sangue durante il sonno e qui può essere importante perché potrebbe essere necessario magari risolvere quel problema anche per la salute, diciamo cardiovascolari, non solo per la salute nasale di quella persona. Per questo è importante insomma magari con il nostro marito e il nostro compagno insomma capire esattamente se dorme bene oppure ha difficoltà di respirazione. Assolutamente, perché a volte si rimane in apnea durante si russa, poi a un certo punto ci si blocca e si rimane in apnea. Quello è un problema. Allora, sono tanti i nostri amici che ci hanno scritto, appena hanno saputo, noi parlavamo di problemi di respirazione, allora rispondiamo ad Andrea che ci scrive da Sondrio e ci chiede ho il setto nasale deviato per dormire meglio, posso usare i cerottini nasali? Aiutano? Assolutamente sì, possono aiutare quando però è associato a un problema valvolare. Perché se il setto nasale deviato, immaginiamolo come un muro che divide due stanze, quel muro non si raddrizza con i cerottini, lì ci vuole solo l'intervento per raddrizzare un muro, ma se diciamo c'è un'astenosi a livello del naso, quindi il naso è come se fosse pinsato, come quella ragazza di prima che aveva dalla parte sinistra un'astenosi, una sorta di pinsatura, allora i cerottini possono aiutare ad allargare un po'. Eppure per chi ha problemi di rossamento sono comodi questi cerottini? Possono aiutare solo però quando il problema è quello, quindi non si risolve tutto con i cerottini ma possono essere utili a volte. Parliamo, lei prima l'ha accennato di un'altra patologia che riguarda la cattiva respirazione che è l'ipertrofia dei turbinati, molto diffusa in noi. Che cos'è e come si cura questa ipertrofia? I turbinati, prima dicevamo del setto nasale come un muro. I turbinati sono delle formazioni che sono ai lati del setto nasale e si possono ingrandire per diverse ragioni. A volte perché è storto il setto e si parla di ipertrofia compensatoria del turbinato, altre volte semplicemente perché è un paziente allergico, è allergico e iperreattivo. Questo è il periodo dove si accendono. Sì, assolutamente sì. E quindi si respira male per un'allergia. Quindi diciamo che l'ipertrofia dei turbinati è una delle patologie più frequenti che riguarda il naso. E come si curano o si interviene anche in questo modo? Può intervenire o no. Nel senso che andare a curare un'allergia con l'intervento significherebbe farti stare bene per 5-6 mesi e poi un'allergia non si cura così. Un'allergia si cura con i farmaci. Se invece c'è un'ipertrofia compensatoria o una patologia strutturale del turbinato bisogna correggerla chirurgicamente. Bisogna individuale quali siano le cause ma bisogna sempre tener conto che i turbinati sono una patologia sia medica che chirurgica. Quindi quando è medica si risolve con farmaci a base di cortisone e di antistaminico ma i vasocostrittori che fanno male nel naso. Quando è chirurgica bisogna intervenire chirurgicamente. In che modo? È sempre molto invasivo l'intervento? No, neanche questo invasivo di solito si associa alla correzione e alla deviazione del setto nasale però le moderne metodiche di correzione come il laser o come la chirurgia radiofrequenza sicuramente permette di essere molto meno invasivi anche in questo campo. Tanti giorni di degenza? No, no. Una notte al massimo. Una notte al massimo anche per l'intervento del setto plasti e anche per setto rinoplastica. Per cui insomma siamo andati davvero avanti. Siamo andati davvero avanti con la ricerca e con questa... Assolutamente sì e veramente adesso è diventato un intervento che non è più da temere come una volta. L'ultimo consiglio stiamo vivendo questo periodo adesso per fortuna insomma il bel tempo è arrivato il polline nell'aria a cosa dobbiamo fare attenzione quando respiriamo? Allora sicuramente questo periodo con le mascherine diciamo per altre ragioni e me ci permettono di evitare un pochino le allergie. Per il resto le allergie ci si difende poco quindi se uno è allergico bisogna che si aiuti con dei farmaci per il resto bisogna soltanto avvertire la propria respirazione vedere se è qualcosa che dà fastidio o meno respirare e cercare eventualmente di migliorarsi anche in questo senso. Stavo pensando mantenere pulito il naso come si fa con i bambini con la soluzione fisiologica? Anche con i grandi anche lì si può utilizzare la soluzione fisiologica quello poi tra un po' insomma andremo al mare e sicuramente il mare aiuterà. Speriamo grazie grazie di cuore dottor Tito Marianetti grazie per questi consigli grazie a tutti Grazie a tutti.